Ciao a tutti! Oggi così un po' più Dogma 95 senza cavalletto con la telecamera che traballa Prometto di non farvi venire più il mal di mare, ci provo almeno, perché ho deciso di accogliere una richiesta che mi è stata fatta diverse volte ovvero di mostrarvi l'aggiornamento del Bookshelf Tour, ovvero di tutti i miei libri che però non sono solo nella libreria ma sono anche sparsi per questa sala che appunto è il salotto quindi non mi soffermerò ovviamente su tutti i singoli libri delle mensole ma vi faccio vedere più o meno come ho organizzato quell'inferno che è la mia libreria e che esplode Iniziamo subito, anche perché ho appena spolverato, quindi in teoria non dovrebbero esserci gaff Allora, inizio col farvi vedere che io ho libri anche proprio sopra le mensole e per questioni di spazio principalmente qui ad esempio abbiamo un enorme libro con scritti di Welbeck e alcuni libri che sono nel mio cuore perché sono introvabili come ad esempio Il Cacciatore ricoperto di Campanelli di Giuseppe Lopresti che vi ho consigliato tantissimo e che è stato ripubblicato una stampa alternativa con uno scritto inedito Sopra lì vedete anche Casa di Foglie Insomma, sono dei libri particolari questi C'è l'importante saggio sul marketing, No Logo Il libro di Georges Perec, La Scomparsa che è un libro diventato molto noto perché rifiuta per tutto l'arco della narrazione la vocale E che è una delle più utilizzate quindi è un grandissimo esperimento di scrittura qui sopra insieme a vari vinili e cactus abbiamo anche una particolarissima edizione del Nome della Rosa che mi è stata inviata da Simone Berni è un'opera d'arte nel senso che non è leggibile in quanto le parole come sono strutturate all'interno del libro sono messe in ordine alfabetico è diciamo un'opera che ironizza sull'enorme quantità di edizioni commemorative di grandi libri quindi va messo proprio ad esposizione e basta qui invece abbiamo alcuni libri che hanno a che fare con natura, botanica, animali ad esempio Il giro del mondo non ho tanta piante, Il giro del mondo non ho tanta alberi oppure ancora Il libro degli esseri malapena immaginati Il colore dei fiori e lì abbiamo dei libri d'arte in particolar modo sull'arte giapponese questo scomparto che è nella libreria più lontana rispetto all'ingresso è quello più disastrato, almeno così sembra perché io metto qui i libri che sono in lettura o comunque quelli che voglio leggere nell'immediato li metto qua così io li prendo direttamente e potete già vedere che c'è il profumo e tantissimi di voi mi hanno detto oh mio Dio ma è uno dei miei libri preferiti ecco c'è diciamo che anche per questioni di spazio come ho organizzato la libreria ho scelto alcuni libri un po' perché magari hanno delle belle copertine oppure perché hanno un enorme significato per me da esposizione qui abbiamo Ombre giapponesi di Lafcadio Ehrn e La vita e istruzioni per l'uso di Georges Perec ora dietro a questa immensa pila potrete già capire che io i libri generalmente li organizzo per casa editrice infatti qui abbiamo i libri della Nero Edizioni in particolar modo la collana dei libri di Not è una collana che a me piace molto con saggi abbastanza fuori di testa che hanno a che fare anche con economia critica al capitalismo femminismo e li adoro tutti i libri della Quad Libet un'altra casa editrice che adoro e che molto spesso anche in campo di narrativa offre veramente delle chicche niente male e qui dietro abbiamo anche i libri uh! cadete? non sapevo io che facciamo questi danni è crollato tutto ma facciamo finta di niente abbiamo anche i libri di Elia Lellia che è una piccola casa editrice di Reggio Emilia iconica perché è fallita negli anni Ottanta i libri sono introvabili ma io me ne sono completamente innamorato quindi mi sono fatto in quattro con ebay e ricerche per poterli avere tutti ed è una casa editrice che ha questa linea ha avuto anzi questa linea editoriale molto attenta ad esempio alla letteratura italiana sperimentale alla poesia mi piacciono tantissimo e li ho appunto tutti qui lo scompartimento subito sotto è dedicato agli Adelphi dove la scelta dei libri in esposizione sono appunto Ada o Ardore di Nabokov e questo interessantissimo saggio di Lawrence Wright La prigione della fede che diciamo è un libro viaggio inchiesta all'interno dell'universo di Scientology ma qui potete già vedere che ci sono alcuni libri che vi consiglio spesso di Nabokov abbiamo Lolita c'è Epepe Carrer che non può mancare qui invece ad esempio abbiamo la Carrington che è un'autrice che vi ho consigliato sempre sempre Carrer insomma amici che avrete imparato a conoscere se frequentate il mio canale gli Adelphi continuano qui sotto non ci stanno quindi ci sono questi qui che sono un po' impilati ma dietro ce ne sono altri e qui abbiamo anche altri libri ad esempio ho due libri di Carrer ancora inediti nel senso che sono usciti tempo fa in italiano per altre case editrici ma siccome Carrer è presente qui io li ho inseriti e sono fuori tiro e bravura fuori tiro era pubblicato da Teoria una casa editrice che all'epoca negli anni 80-90 aveva un catalogo veramente invidiabile bravura per Marcos I Marcos non so se verranno ripubblicati in italiano ma comunque ce li ho poi qui ho un po' di ISBN edizioni una casa editrice che mi piaceva molto e che purtroppo è fallita vi consiglio sempre La Stanza che è un libro particolarissimo e unico nel suo genere qui abbiamo anche un libro particolarissimo fuori catalogo che è L'Adorazione di Jurokara che è un libro di True Crime è un libro di True Crime che sembra un pochettino anticipare L'Avversario di Carrer dove l'autore giapponese che è principalmente noto come regista di film Pink Weiga ovvero quei film pozzozzetti che però rientrano comunque nel cinema d'autore ha uno scambio epistolare con Issei Sagawa che è un famosissimo inquetantissimo criminale che ha ucciso e mangiato una persona quindi è un cannibale vero e proprio accanto agli Adelphi e qui davanti abbiamo Come cambiare la tua mente che è un saggio interessantissimo di Michael Pollan sull'LSD abbiamo invece Iperborea che ho deciso di organizzare in questo modo anche per guadagnare spazio ma comunque li trovo abbastanza estetic e ci sono diversi libri che vi consiglio spesso ad esempio Il Castello di Gaccio di Vesas che è splendido oppure ancora tutto quello che non ricordo di Chemiri Sjöberg tutti i libri che io lo amo tantissimo insomma questo è uno scaffale che esplode ma comunque ricco di chic qui sotto se dobbiamo proseguire abbiamo Feltrinelli Feltrinelli che esplode anche in questo caso principalmente Universale Economica ma ho anche dei libri in questo formato più grande come ad esempio Otessa Moshfeg autrice che come sapete mi piace molto Le Origini del Male che è un bellissimo thriller che vi ho consigliato spesso qui forse non lo so l'ho messo qui anche se edizioni E.O Seni e Uova di Mieko Kawakami qui dietro altri per Borea che non ci stavano sopra due cliché quindi Harvard inchiesta su un delitto che è un libro di true crime e Confidence che è un thriller che devo ancora leggere e poi vabbè Aurora Pace che è un libro che vi ho consigliato tantissimo e insomma qui principalmente Feltrinelli qua davanti abbiamo Ed Sanders La Famiglia che è un saggio sulla family di Charles Manson e qui alcuni nuovi arrivi gli ultimi arrivi di esempio Osamu Dazai che è un autore giapponese che io adoro tantissimo oppure l'Alef di Borges qui dietro abbiamo altri Feltrinelli principalmente Mishima che come sapete è uno dei miei autori preferiti Lovecraft e i primi tre libri della grande autobiografia iperambiziosa di Knausgaard che è la mia la mia battaglia qui sotto invece abbiamo è un po' più libero dal punto di vista registico questo video ma abituateci abituateci oh mamma mia è proprio domenica mattina sto parlando malissimo perdonatemi qui abbiamo altri Feltrinelli quindi sempre Mishima ma anche Isabella Santa Croce alcuni Bananai Yoshimoto qui sopra che fanno un po' da cornice qui davanti abbiamo un altro Iperborea che è un libro interessantissimo sui vulcani d'Islanda e un delicatissimo libro illustrato pubblicato da Salani che è Il bambino la talpa la volpe il cavallo che è molto poetico molto romantico veramente dolcissimo davanti ai libri Feltrinelli c'era questo libro particolarissimo che in realtà è una raccolta di aforismi di Mishima che io ho in questa edizione molto particolare e si intitola Mishima Martire della bellezza pubblicato dalla Tsunami Edizioni dietro qui abbiamo alcuni libri pubblicati da case editrici indipendenti quindi abbiamo ad esempio vabbè qua c'è Il racconto dell'Ancella che è pubblicato da Pontale Grazie abbiamo Diversi Sur che è una case editrice che a me piace molto che è molto specializzata sulla letteratura sudamericana e in particolar modo vi consiglio Andres Neumann che secondo me è il migliore autore di short story al mondo praticamente qui abbiamo qui abbiamo un libro di Jean Cocteau Il Potomac Numeri che è un super cult della letteratura queer e qui abbiamo anche poi ADD Editore diversi libri di ADD di cui vi consiglio Lanterna in Volo che è una bellissimo è un bellissimo viaggio all'interno delle vite di Millennial in Cina letteratura cinese proveniente dalla case editrice Metropoli d'Asia e poi Fandango di cui non sono gli unici libri che ho ma tre sono qui perché comunque sono tre italiani comunque che hanno a che fare non lo so che li vedevo bene assieme sono Febbre di Jonathan Bazzi Zucchero e Catrame e Il Libro di Teacic qua sopra abbiamo anche anche l'iconico A Sangue Freddo di Capoti e Ballo di Famiglia di David Livit che è considerato anche quello un libro assolutamente imperdibile devo ancora leggerlo mannaggia a me però ecco è un libro che è un libro che deve stare in libreria ultimo scomparto della libreria dedicato ai graphic novel come vedete ce ne sono diversi illustrati insomma qua tengo i miei preferiti diciamo che le graphic novel per poterle tenere devono lasciarmi veramente qualcosa vabbè è rughe è splendido ma anche qui abbiamo Sueiro Maruo che è uno dei miei autori preferiti in campo fumetto oppure dove lui è fantastico Jesse Jacobs Crawl Space l'universo così conoscerai l'universo degli dei Safari Honeymoon oppure ancora se siete gattari vi consiglio la trilogia Cronachette di Giacomo Nanni che è fantastico ecco qui abbiamo proprio i graphic novel o i manga fumetti che ho deciso di tenere in libreria perché mi hanno lasciato qualcosa in realtà ci sono anche dei libri che non rientrano strettamente nel genere ma comunque li ho messi qui perché sono illustrati come ad esempio l'iconico libro di Lillimera oppure ancora ecco il manoscritto di Voynich che è un libro particolarissimo perché è considerato un libro uno dei libri più misteriosi di sempre illegibile intraducibile insomma grande follia qui dove svetta Manila Finta abbiamo iniziano gli Einaudi e qua in particolar modo abbiamo gli Einaudi stile libero quelli con la costa gialla qui davanti ci sono i nuovi arrivi tra cui scandalosamente non avevo che la festa cominci io l'ho letto più di dieci anni fa e no più di dieci anni fa non credo no sì sì più di dieci anni fa ero ragazzino e pur amandolo non l'ho mai avuto in libreria perché l'avevo letto in biblioteca l'ho comprato tante volte per regalarlo e finalmente posso dire di avere la mia coppia e qui dietro appunto c'è tantissimo altro di cui vi consiglio in particolar modo Cat Person ma anche Niven Uccidi i tuoi amici Invisibili un bellissimo saggio sull'invisibilità delle donne a livello statistico ve ne ho parlato spesso è molto bello molto dolce mio fratello rincorre i dinosauri di Mazzariol la Cask Rachel Cask è un'autrice che vale assolutamente la pena recuperare qui invece continuano altri in Audi stile libero abbiamo Vuming Aldo 9 di cui vi consiglio sempre Super Vubinda ovviamente quel mattone che è Infinite Jest Steckiti invece è un libro sui morti quindi adoro qui abbiamo i Luther Bliss abbiamo anche dei vecchi mondadori che ci stavano bene qua perché abbiamo Sartre che questa è un'edizione hyper vintage che avevo preso in un mercatino a 50 centesimi con morti senza tomba e le mosche questo è un altro classicone che non trovavo in nessuna edizione l'ho trovato in questa edizione vintage del Giardino dei Supplizi che io voglio leggere principalmente me ne rendo conto perché uno dei miei album del cuore è Torture Garden dei Naked City poi vabbè Ian McEwan poi ecco ho messo qui anche appunto quei libri non so che collana sia quei libri tascabili dell'Ena Audi con che non penso esistano più con La Costa Azzurretta e quindi abbiamo ad esempio Meno di Zero di Ellis le correzioni di Jonathan Franzen La Beauvoir La Beauvoir tra l'altro di cui vi consiglio sempre Memoria di una ragazza per bene sono molto orgoglioso di averlo in un'edizione veramente veramente vintage poi questo è un libro a cui sono veramente affezionato e lo sapete anche perché ora è scandalosamente fuori catalogo non è pubblicato da Ena Audi è pubblicato da Bur Rizzoli o meglio era pubblicato è uno dei libri più geniali che abbia mai letto da Sayonara Gangsters io lo metto qua in alto perché lo voglio a disposizione ma non voglio che Manila lo butti giù perché è introvabile quindi deve stare in alto e poi comunque col giallo si lega bene dietro a lui qui abbiamo altri libri e qua iniziano diciamo i tascabili in Audi dove potrete vedere sicuramente subito colpo d'occhio Raymond Carver diciamo l'autore per eccellenza per quanto riguarda i libri le raccolte di short story americane qui sotto però che tripudio di bianco se togliamo 4 3 2 1 di Paul Ouster perché qui tra l'altro ai due lati abbiamo 1 Q84 volume 1 e 1 Q84 volume 2 e qui appunto abbiamo i super coralli delle in Audi guardate che gioia io vi consiglio la città dei vivi di la gioia l'ho trovato veramente un bellissimo libro di true crime qua sopra abbiamo comunque un ISBN edizioni perché ci stava qui a volte quando hai la libreria che esplode devi raggiungere dei compromessi quindi tentacoli di David Bessis che se non ho capito male è una sorta di io non l'ho ancora letto devo essere sincero è una sorta di metamorfosi di Kafka ma con il polpo al posto dello scarafaggio American Psycho enorme cult della vita poi vediamo un po' che cosa c'è ah questo è un libro a cui sono affezionatissimo purtroppo è introvabile quindi se lo vedete non lasciatevelo scappare che è Cargo di Matteo Gagliazzo anche questo è uno dei libri più geniali che abbia mai letto recuperatelo La Nausea di Sartre ovviamente che io ho in un'edizione in realtà l'edizione è quella normale però appunto mi è stata donata da Daniele Catalli non so se se vi ricordate che ho fatto con lui quel video in cui presentavo la sua la sua attività nel personalizzare le copertine dei libri in generale gli avevo detto che il mio libro preferito è La Nausea e lui mi ha regalato la versione da lui impacchettata diciamo e ovviamente c'è quella nella mia libreria John Neven ancora Salinger Pavese Le ricette della signora Toque che è uno di quei libri che vi consiglio sempre come libro comfort diciamo come libro al quale non si può rinunciare quando si ha una giornata storta ecco questo scomparto è decisamente devastato perché sono altri enaudi altri enaudi di cui ne vedete tantissimi qui davanti tra cui mancabili due libri che per tanto tempo non sono stati nella mia libreria e finalmente li ho recuperati che sono Lacci dov'è eccolo qua Lacci e Cortesie per gli ospiti di McEwan qui dietro però ovviamente con davanti questo uccello che girava le viti del mondo di Murakami è una vecchissima edizione mi chiedete sempre che cos'è ma è Murakami l'uccello che girava le viti del mondo un'edizione degli anni 90 di Baldini Castoldi prima che passasse ad Einaudi e l'avevo trovata al mercatino dell'usato ovviamente qui mentre i libri crollano abbiamo tantissimi Murakami Haruki di cui il mio preferito e ve lo ricordo sempre è Kafka sulla spiaggia secondo me proprio la sua somma anche perché a me piace quando Murakami va fuori di testa e realizza degli universi onirici veramente sorprendenti qui invece abbiamo altri Einaudi alcuni sempre di Murakami come ad esempio l'arte di correre però in particolar modo ad esempio io vi consiglio Flatlandia o se amate il teatro tutto il teatro di Sarah Kane autrice pazzesca qui dietro abbiamo ancora Sartre la nausea perché questa era la mia vecchia edizione prima di avere quella personalizzata ma le tengo entrambe perché Sartre non si dà via voi sapete che c'è un decluttering che continua nella mia libreria però ecco Mo Yan autore cinese che mi piace molto un libro che voglio leggere da tantissimo tempo Veronica e il diavolo che me l'aveva mandato in Audi mi ha incuriosito molto e poi è tornato nella libreria perché non ero nel mood è una sorta di resoconto storico di un esorcismo venuto nel 1800 in Italia quindi molto interessante qui dietro abbiamo Wallace per poi passare lentamente a Il Saggiatore che infatti occupa lo scomparto qua sotto oh guardate che tripudio di bianco anche in questo caso talmente bianco che si vede proprio l'ombra del mio telefono qui davanti abbiamo perché ha anche un bestione è quello il motivo il mistero punto doc di Matthew McIntosh che è un libro stranissimo perché è un libro scritto come se fosse come se avesse un glitch o un virus informatico all'interno è decisamente strambo è decisamente affascinante io l'ho preso un po' più come opera d'arte che come romanzo da leggere tranquillamente qui tantissimi saggiatori in particolar modo Emma Glass è un'autrice che adoro tantissimo mi piace da pazzi ma anche Yokogawa pazzesca poi diciamo che il saggiatore riesce a soddisfare le mie esigenze di pacco polacco perché ad esempio Boscomatto o Darvasi che è qui si virano un po' nel pacco polacco tempi moderni poi è una raccolta di racconti straordinaria veramente splendida ma poi il saggiatore fa anche questi libri un po' ibridi particolarissimi quelli di Olivia Lange Città Sola ad esempio che è un meraviglioso viaggio all'interno della solitudine nelle metropoli o il libro delle lacrime che effettivamente è un libro sul pianto qua abbiamo uno dei miei libri ever preferiti scoperto per caso perché me ne ha parlato Denise del saggiatore mi ha detto questo è un pacco polacco che adorerai aveva ragione ed è siamo vissuti qui dal giorno in cui siamo nati che per tantissimo tempo è stato il mio libro preferito del decennio scorso qui abbiamo dei piccoli saggiatori tra cui grande trollata come smettere di bestemmiare di padre Alfonso Maria Tava io adoro quando il saggiatore si lancia in queste follie casuali però attenzione perché voi vedete qui dei libri ad esempio di case editrici ma potrebbero ricomparire di là anche perché io li divido anche per tematica oltre che per case editrici ma poi vi faccio vedere bene qua c'è un mischione qua inizia il mischione perché qui ho messo altre case editrici qua abbiamo ad esempio Neri Pozza lo potrete vedere anche perché c'è la la mitica Natsukirino qui davanti in particolar modo Neri Pozza ha una scelta a volte molto raffinata per quanto concerne la letteratura giapponese infatti qui abbiamo anche Tanizaki La Ciccala dell'Ottavo Giorno che deve essere un bellissimo romanzo che devo ancora leggerlo ma anche ad esempio nell'edizione Bit ah no qua sono tutti Natsukirino eh l'ho messa qui la mia diva personale però ah ecco qua sotto c'è ad esempio Soseki che è un grandissimo autore giapponese qua abbiamo dei libri random in cui svetta sicuramente le 120 giornate di Sodoma di The Sad ma abbiamo anche altri giappi qui dietro abbiamo Codice Edizioni un'altra casa editrice che mi piace molto non tutti sono di Codice Edizioni questi da qua in su e di cui vi consiglio sempre anche nella casa dei tuoi sogni ehm poi qua dietro abbiamo Voland eh Edizioni E.O. eh qui abbiamo eh Safarà di cui vi consiglio Amatka che è uno stranissimo libro sci-fi esistenzialista molto strano e Edizioni Gog eh di cui eh vi consiglio tantissimo un romanzo con cocaina che è un libro con una storia particolarissima alla base Edizioni Gog è una casa editrice che mi piace un sacco perché loro sono tutti giovanissimi e hanno questa selezione di libri assurda cioè eh molto controcorrente ma con una grandissima attenzione all'estetica sono veramente bravi qua sotto l'eterno mischione allora andiamo con le cose facili qui abbiamo i libri eh di eh Utopia Edizioni che è una casa editrice nata durante il lockdown tra l'altro anche in questo caso casa editrice molto giovane molto attenta a eh libri di qualità eh molto spesso anche a G eh internazionali e eh e non eh un bellissimo progetto di cui tra l'altro ho accolto l'editore sul canale facendogli un'intervista è stato molto gentile qui invece abbiamo una sorta di Melissa P perché è il romanzo eh Hell di Lolita Pille che io devo ancora leggere tra l'altro che è è stato un po' lo scandalo francese noi avevamo Melissa P loro avevano Lolita P quindi vabbè adoro voglio voglio vedere cos'è voglio vedere di che tratta qui abbiamo vabbè Sellerio eh a parte che qui abbiamo un Bonpiani scappato dalla sua zona che eh è un saggio di Pomerantsev questa non è propaganda sulla propaganda russa interessantissimo e qui abbiamo eh due Sellerio in particolar modo Tokyo Soundtrack ma Sellerio è anche sempre qui qui ho rinunciato a fare le divisioni tra case editrici perché non funzionava più per lo spazio infatti qui abbiamo poi Marsiglio in particolar modo le vecchissime uscite di Marsiglio dedicata alla letteratura giapponese nella collana le farfalle se lo trovate nei mercatini vi consiglio assolutamente Yes 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 di Isao Iruma che è un bellissimo viaggio all'interno della vita della nightlife e anche nel lato amaro della nightlife gay a Tokyo negli anni 90 con anche il tema della prostituzione maschile quindi diciamo che è molto particolare come libro veramente struggente anche da quel punto di vista qui abbiamo due libri sui gatti perché abbiamo cronache di un gatto viaggiatore io con i gatti non resisto e il gatto che vuole salvare i libri che sono due libri di autori giapponesi che i giapponesi ce l'hanno su con i gatti quindi e fanno questi libri un po' a comfort quando ho bisogno di scappare dallo stress della vita ecco ci sono loro c'è questo tipo di libri abbiamo alcuni fandango in particolar modo un saggio true crime su Sara Scazzi e il crimine di Avetrana e la collina di Andrade Logu che è un saggio su appunto sull'esperienza personale di essere nata e cresciuta a San Patrignano che io ammetto avevo acquistato dopo aver visto la serie tv abbiamo qui due libri di atmosfere edizioni due raccolte di racconti di cui in particolar modo vi consiglio Limone e altri racconti che è bellissimo di Kaiji Motogiro è un autore giapponese che è veramente poco noto in Italia ed è un peccato anche perché ha un talento straordinario ed è stato dimenticato per tantissimo anche perché ha avuto una vita molto breve alle sue spalle qui come potete vedere poi ci sono dei Sellerio ancora e dei Marcos i Marcos Boris Vian domina su tutto voi sapete che è un mio autore del cuore la schiuma dei giorni qui abbiamo dei fazzi in particolar modo orgogliosissimo di aver acquistato appena il giorno dell'uscita WM18 perché ora c'è la lotta per averlo ma io tranquillo l'ho andato in libreria a comprarlo perché io fan della Santa Croce trasgri adolescente qui abbiamo davanti un Wallace che ti osserva con come diventare se stessi David Foster Wallace si racconta qui i libri random principalmente con anche tanti giappi ad esempio Yokogawa e qui dietro concludendo questo scaffale è Minimum Fax di cui vi consiglio in particolar modo i saggi di Mark Fisher e assolutamente una cosa divertente che non farò mai più di Wallace divertentissimo fuori di testa adoro ah e qui sopra incastrato abbiamo anche il pasto nudo di Borog scaffale anche qui strapieno qui abbiamo Bompiani e la nave di Teseo insieme a dei Notte Tempo in questo caso abbiamo il Dio che Danza che deve essere un saggio bellissimo sull'unione tra musica e trance nel senso di appunto estasi anche spirituale qui dietro abbiamo altri libri in realtà soprattutto dalla casa editrice S.E. che io amo particolarmente eccoli qui uuuu che cade tutto è dove vi consiglio ovviamente storia dell'occhio di Bataille e mentre cerco di sistemare tutto qui dietro appunto abbiamo dei Bompiani che sono nascosti dal sussurro del mondo di Richard Powers abbiamo Stephen King qui in mezzo ma perché in realtà Stephen King è stato anche pubblicato da Bompiani Pier Vittorio Tondelli alcuni Welbeck qui ovviamente abbiamo il mitico Sartre l'età della ragione e non lo so anche se pubblicato da Thea secondo me ci stava benissimo qui in mezzo Bonjour Christesse di François Sagan che è un mio must dell'adolescenza Trasgri alcuni la nave di Teseo come ad esempio brevemente rispendiamo sulla terra di Ocean Vuong la Giulia Caminito che come sapete ho amato molto con l'acqua del lago oramai dolce pubblicata da Bompiani una vecchia edizione della chiave di Tanizaki qui dietro appunto altri libri principalmente Bompiani e e qui anche alcuni la nave di Teseo come ad esempio mia sorella è una serial killer Welbeck ancora Mario Messina carinissimo romanzo d'esordio falsa partenza e poi qui sotto invece anche se c'è un serotonina di Welbeck principalmente ho libri in altre lingue anche se come sempre per motivi di spazio a volte ci infilo cose che non c'entrano niente però principalmente sono a parte alcuni Bompiani qui come ad esempio Crash di Ballard ho principalmente libri in inglese e francese che sono le altre due lingue in cui leggo qui ad esempio abbiamo Columbine di Dave Cullen che è un saggio ipercompleto sul massacro alla Columbine High School qui abbiamo libri di Ryu Murakami che come saprete ormai che vi ho fatto una testa così sono pubblicati principalmente in francese e non so per quale motivo ma proprio per questo motivo ho messo qui i libri usciti in italiano invece che sono stati pubblicati da Atmosphere 69 e Blu Quasi Trasparente insieme al Quaderno Kanguro di Abe Kobo perché appunto qui abbiamo i libri di Abe Kobo in inglese quindi The Woman in the Dunes in particolar modo ve lo consiglio ma anche L'Uomo Scatola The Boxman che uscì all'epoca per Einaudi e per poi Sparire nel Nulla qui abbiamo altri libri in lingua inglese principalmente Autori Giappi ma non solo in realtà e qui sotto abbiamo Mondadori principalmente Mondadori e classici qui davanti perché deve essere sempre presente abbiamo Céline e il suo viaggio al termine della notte ma qui abbiamo anche Boris Vian Sputerò sulle vostre tombe che è stato il suo libro pulp che io mi leggevo di nascosto durante le lezioni di matematica La Campana di Vetro di Silvia Plath ovviamente Dostoevsky insomma tanti tanti classici qui abbiamo una sferzata di libri principalmente Mondadori ma non solo qui ad esempio c'è un Atmosphere che però non ci stava sopra che è La Casa Impura di Ono Fuyumi che vi avevo fatto una recensione apposita è un bellissimo horror se vi piace l'horror ve lo consiglio in particolar modo l'horror giapponese qui in mezzo abbiamo anche Il Diavolo Veste Prada perché sì Battle Royale qui dietro abbiamo altri Mondadori principalmente Polanik non fatemi togliere tutto perché sennò succede il dramma Polanik La Santa Croce questi qua delle edizioni piccola biblioteca Mondadori che erano carinissimi altri classici Oblomov Hemingway qua sotto invece lo scaffale Harry Potter edizione in italiano in inglese più qualche raro fantasy tra cui Piranesi che è un libro che come sapete ho amato tantissimo ma abbiamo anche Gideon la Nona L'amore bugiardo perché non lo so non entra nel fantasy ma è lì ci stava bene assieme devo essere sincero e ovviamente La Società dei Gatti Assassini che era il mio libro preferito da bambino questo a History of Magic che secondo me mi chiederete oh mio Dio è il libro della magia della storia della magia è in realtà un taccuino quindi state tranquilli è un taccuino ma è molto bello e quindi ci stava assolutamente sporlo in libreria qui abbiamo libri di scienze principalmente matematica dove svetta questo splendido libro che è esplorando gli elementi un viaggio nella tavola periodica degli elementi con un'estetica veramente pazzesca e qui sotto abbiamo dei libri di moda i libri delle sfilate dell'Ippocampo Edizioni che li ho tutti un altro libro Wax & Co che spiega la storia dei tessuti africani wax veramente splendido Punk Couture che è un libro che spiega appunto l'unione tra moda e cultura punk qui abbiamo degli altri illustrati infografica della seconda guerra mondiale il Mabarata che è un mega graphic novel che appunto rimette in chiave di fumetto un libro di culto per la cultura indiana che effettivamente è il Mabarata è uno dei testi più lunghi nello scibile umano qui abbiamo anche i libri di Koji Suzuki che è un po' lo Stephen King giapponese quello da cui è nato The Ring per intenderci dove ho l'intera tetralogia e Dark Water che invece è una raccolta di racconti e l'omonimo racconto ovviamente è nato origine al film omonimo qui abbiamo anche il mega pop-up di Harry Potter alcuni libri pop-up tra cui il dolcissimo Sandalino di Susumu Shingo insomma qua c'è un po' un mischione diciamo dalla moda ai libri per bambini perché sì ultima libreria ma non è finita assolutamente perché qui abbiamo vabbè saltano subito all'occhio i classici della colana Minalima sono dei classici della letteratura illustrati dallo studio Minalima che è un studio grafico pazzesco che tra l'altro lavora principalmente nel cinema in realtà e che ad esempio tra il suo lavoro più celebre e il loro lavoro più celebre è stato quello di seguire di dirigere gli aspetti creativi scenografici dei film di Harry Potter qui abbiamo anche pezzettino di Leo Lionni che è il mio libro per bambini preferito di sempre è bellissimo qui un po' di trasgritudine perché ci vuole c'è Club Godo e libri d'arte principalmente libri d'arte questa diciamo che è proprio la la libreria artistica e qui davanti vedete un libro straordinario che è il libro delle case straordinarie di cui vi ho parlato sul canale è un libro veramente unico nel suo genere uno splendido albo illustrato qui abbiamo Murdo che è uno anche questo è uno dei miei libri per bambini preferiti di sempre un libro di stoffa che io per bebè è questo però si chiama Musetti Selvaggi e doveva essere esposto assolutamente il gioco del libro Colorama che è questo qui che è un campionario di pantoni con curiosità di colore un campionario di colori e ve ne ho parlato spesso sul canale qui abbiamo appunto libri d'arte principalmente o comunque creativi e in particolar modo vi consiglio siete appassionati di profumi profumo di Neil Chapman i libri di Riccardo Falcinelli cromorama figure critiche apportate dal visual design libri sul colore di ogni tipo e libri anche di moda qui ad esempio questo che è un libro sulla moda anni 90 questo che è un libro su John Galliano Alexander McQueen e poi dei manga dei manga di Junjito che come sapete è uno dei miei mangaka preferiti e molto sull'horror visionario qui abbiamo libri di musica e sono tantissimi a parte Minimal Film che è un libro di cinema però principalmente musica qui vedete Simon Reynolds il suo saggio sulla musica elettronica il libro sul silenzio di John Cage ma anche libri particolarissimi come ad esempio Orgasmo Song che è effettivamente un saggio sul genere musicale della Orgasmo Song oppure ancora libri sul black metal musica eterna che è un saggio sui Death Can Dance Lords of Chaos che è un saggio incredibile sulla scena black metal norvegese con anche crimini annessi libri ovviamente anche su Bjork insomma un putpurri di libri musicali qua sotto c'è proprio Michelane dove vedete anche libri con i gommini dei gatti i baffetti dei gatti il libro sul trash di Gabriele Ferraresi What Artists Wear che è un libro straordinario su ciò che indossano gli artisti e sull'unione tra arte e moda The Useless Japanese Inventions che è una raccolta di invenzioni inutili di Kenji Kawakami i cosiddetti chindogu che è un libro anche questo divertentissimo e pazzesco che però ha inventato il selfie stick attenzione e qui dietro abbiamo anche diversi libri della collana Contatti di Castelvecchi che è una delle mie collane preferite di sempre tra cui ovviamente i libri di Tommaso Labranca che come sapete è un mio grande amore qua sotto abbiamo libri di sessualità libri queer femminismo c'è un po' tutto questo in particolar modo vi consiglio questo libro gay e questo libro è trans che sono dei libri bellissimi approcciabilissimi da chiunque io non volevo toglierli perché sennò cade la bandierina che ho messo qui ho messo qui proprio appoggiata intanto io sto per cadere però ad esempio ho altri saggi sulla sessualità di Michel Foucault gay Berlin che è un saggio sulla sull'omosessualità berlino pelle queer maschere straight di Antonia Anna Ferrante che è un saggio sulla rappresentazione queer in televisione qui invece abbiamo libri di comunicazione new media in particolar modo qui svetta la biografia la biografia l'autobiografia di Edward Snowden errore di sistema ma c'è anche il libro di Alessandro Lolli sui meme insomma c'è ah questo è bellissimo questo leggetelo insieme ai massoli di Sherry Tarkle è un libro sul tema della solitudine legata al digitale diciamo e sulla comunicazione e comunicabilità qui sotto libri d'arte ah mamma mia è peggio che fare sport fare bookshelf tour comunque libri d'arte giganti praticamente abbiamo dei libri di moda questi libri mostruosi su cui Manila fa le unghie tra l'altro mannaggia lei dei miei stilisti preferiti che sono Reika Wakubo di Com de Garçon Henry Cowens e ovviamente Yoshi Yamamoto un librone di Com de Garçon un librone di Alexander McQueen due libroni di David LaChapelle grande grande fotografo i graphic novel Anaïs Nin nel mare delle menzoni di Leonie Bischoff Stanze tutte per sé che ve l'ho consigliato tantissimo due libri di Dalì sono due ricettari uno è il ricettario surrealista e l'altro è il libro sui vini adoro Codex Rafinianus il mio libro preferito di sempre probabilmente di Luigi Serafini un libro di Nobuyo Shiraki che è un fotografo un po' trasgri che a me piace tantissimo insomma c'è l'imbarazzo della scelta un libro su Vivian Meyer il libro che ti porta nell'architettura della Nord Corea i libri di Simone Berni per i cacciatori dei libri introvabili insomma c'è tanto qui dentro è la parte più estetica questa qui siamo usciti dalla libreria che è questa qui appunto ma in realtà c'è dell'altro c'è dell'altro perché io non mi basta quello spazio e quindi questa è la libreria dei DVD sostanzialmente dove però io metto tanti libri di cinema là in alto ebbene sì e io per prenderli devo tirare fuori la scala non sto scherzando qui ad esempio abbiamo il dizionario del cinema horror il dizionario del cinema erotico il libro di Lynch il libro di Jean-Luc Godard i diari di Jane Birkin il libro sugli oro giapponesi il libro sulla censura nel cinema qui sotto in realtà tra i DVD abbiamo altri libri perché qui abbiamo il libro su Yorgos Lantimos e un libro su Michelangelo Antonioni qui sotto altri libri di cinema mischiati ai DVD perché abbiamo libri sul cinema giapponese la monografia di Kim Ki-duk la monografia di Simon Yang libri sulla Nouvelle Vague giapponese libro sulla videoarte la sceneggiatura di Parasite di Bon Joon Oh e qui sotto finalmente troviamo cose consistenti questi sono i libri estetic che voglio avere sotto mano per sfogliarveli ogni tanto in particolar modo vabbè a parte che qua c'è la batteria della telecamera la batteria della telecamera in attesa di caricarsi però insomma a parte che questo libro è spettacolare che è Paesaggi perduti della Terra che è splendido ma poi ovviamente è storia di fantasmi del Giappone ah The Mad Men's Library che è un libro assurdo sulla sulle bizzarrie dell'editoria Atlas Obscura Renang che è il mio fotografo preferito Libri di Arachi sempre il mio fotografo preferito un altro mio fotografo preferito almeno Frutti di Cédric Grolet che in realtà è un libro di cucina ma è talmente bello che è un libro d'arte cioè sostanzialmente Cédric Grolet è un pasticcere che è noto per fare questi frutti ripieni diciamo ma a livello estetico è un libro bellissimo io ce l'ho semplicemente perché è splendido basta cioè non mi metterei di certo a farli il librone di Nick Cave Stranger Than Kindness il libro sulle grafiche della Nord Corea adoro e qui passiamo passiamo di qua perché anche all'altro lato qua c'è una manilina c'è una manilina che è stata svegliata hai ragione ci metto poco tranquilla qui abbiamo altri libri illustrati principalmente in particolar modo Botteghe di Tokyo che se non siete mai stati a Tokyo vi farà fare un viaggio incredibile tra le botteghe ed è splendido oppure ancora il libro sul rapporto tra Munari e Gianni Rodari qui sotto due libri splendidi sui tarocchi che sono Tarot e Astrology anzi Astrology è sull'astrologia ma sono bellissimi veramente dei piccoli capolavori qui sotto abbiamo anche i libri di Johan Corneia Atlante Storico Mondiale il libro su Yayoi Kusama di Elisa Macellari qui sotto abbiamo gli Atlanti di Lippocampo Edizioni dove ovviamente il mio cuore va a Atlante di Botanica Profumata di Jean-Claude Elena perché sono un patito dei profumi poi non è finita perché sopra alle colonne dei cd abbiamo libri di musica dove svetta naturalmente Misschetta ma abbiamo anche chicche quali il romanzo di Britney Spears e là invece siccome quella è la colonna pop infatti vedete che c'è Misschetta i BTS Britney Spears poi elettronica hi-fi perché da qua in giù è tutta musica techno elettronica quindi qua è musica mainstream sotto musica elettronica e qui invece abbiamo la colonna alternativa abbiamo i Joy Division Asienda di Peter Hook quindi siamo nel territorio New Order questo qui non è un libro questo ma è Art and Soul dei Joy Division quindi è un cofanetto che contiene l'intera discografia della band e qui abbiamo altri libri attenzione e abbiamo finito dopo ve lo prometto però abbiamo libri di musica principalmente quindi libri sui radio Pink Noises che è un libro bellissimo sulle pioniere donne della musica elettronica il libro di RuPaul il libro di Geronimo Stilton su Coco Chanel e un libro di moda sugli stilisti giapponesi e diciamo che così abbiamo terminato sono esausto e sudatissimo però è veramente fare i bookshelf tour cioè smaltisci un sacco io sono sono devastato però spero che aver dato un'occhiata alla mia collezione di libri vi abbia intrattenuto cioè vi sia piaciuto e sappiate che comunque la mia libreria è sempre in costante trasformazione quindi alcuni libri potrebbero lasciare gli scaffali altri ne potrebbero entrare cambio continuamente quindi sicuramente in futuro farò una nuova puntata aggiornata aiuto sono veramente esausto ma com'è possibile non ho più l'età non ho più il fisico non ho più niente vabbè fatto sta che detto ciò spero che questo bookshelf tour vi sia piaciuto fatemi sapere che cosa vi ha colpito in particolare se c'è qualcosa che vi ha colpito io intanto vi aspetto a un prossimo video vi mando un bacione ciao 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 ciao